Bentornati negli sconti per Nintendo Switch! Affrettatevi perché gli sconti su alcuni di questi titoli scadono tra pochissimi giorni, quindi fiondatevi su eShop e condividete il video con i vostri amici che hanno Nintendo Switch. Dark Souls, il gioco che ha reso la parola frustrazione sinonimo di divertimento. Affronta nemici impossibili, supera livelli intricati e cerca di non lanciare il controller dalla finestra. Fatti coraggio, alla fine la soddisfazione di battere un boss sarà più dolce di una torta alla crema. Greek Memory of Azur è un Metroid-like che dimostra che tre teste sono meglio di una, non fosse che in realtà la testa è sempre la tua. Passa attraverso un mondo illustrato con uno stile artistico fenomenale risolvendo enigmi con una famiglia di personaggi più unita di molte famiglie reali. La vera sfida? Coordinare da soli tre fratelli senza farli litigare. In Doom Eternal la soluzione ad ogni problema è sparagli in faccia, combatti i demoni, salva il mondo e fai tutto ad una velocità tale che ti sembrerà di essere sotto l'effetto di 20 litri di caffè. La terapia per lo stress non è inclusa nel prezzo. Unravel 2 è un platform puzzle cooperativo con piccole creature fatte di filo. Puoi giocare da solo controllando i protagonisti contemporaneamente o in cooperativa con un amico, utilizzando il filo che lega i due protagonisti per risolvere i rompicapi e navigare in ambienti affascinanti. Il gioco enfatizza il lavoro di squadra e la coordinazione, raccontando una toccante storia sull'amicizia. Hot Shot Racing è la risposta ai tuoi sogni di guidare come nei vecchi giochi arcade. Fai de rapate e super avversari e cerca di non schiantarti contro un muro. Se non senti la nostalgia è perché non hai vissuto negli anni 90. Lost in Random è una sorta di action RPG dove controlli una ragazza e un dadu vivente in un mondo strano e meraviglioso che sembra uscito da un film di Tim Burton. La coerenza è sopravvalutata comunque, giusto? Bene, anche per questo rapido video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi sconti.